Buon pomeriggio a tutti cari Youtubers, io sono Reddraverigenna e vi do il benvenuto nel mio nuovo video. Allora, come potete vedere sia dal titolo che dallo sfondo c'è un manga, chissà come mai c'è un manga, perché oggi vi farò una nuova recensione sul nuovo manga. Quale manga? Ovviamente Keroro, c'è anche scritto. Questo manga è sempre della Star Comics e della Mine Yoshizaki, però non è un shouzo manga, cioè per adolescenti, però è della shouen, cioè più per bambini. Però io l'ho voluto comunque comprare e spendere soldi perché da piccola lo guardavo sempre su Italia 1 e quindi ho voluto comprarlo. Non l'ho ordinato in fumetteria perché il 2 era esaurito, potevo ordinare l'1, il 3, il 4, il 5, il 6 e tutti gli altri, ma il 2 proprio non si poteva ordinare e quindi ho voluto comprarli usati su ebay. Allora, andiamo subito alla storia. Allora, in breve questo manga parla di questo esercito di alieni, qua il primo ad apparire, che è il Sergente Keroro, che praticamente il suo compito è di conquistare la terra, che loro la chiamano Peikopon. Però diciamo che dopo si affiziona anche ai terrestri e quindi lui cerca sempre perché ha il compito di conquistare, a cercare di conquistare la terra, però tutti i suoi piani vanno in fumo. E quindi non riesce mai a conquistarla, anche se dovrebbe. Il motivo principale che non riesce a conquistarla è perché si affiziona e dopo anche perché perde tempo nei modellini, perché il suo hobby passatempo è guardare o la tv, oppure anche montare robot. E quindi non riesce. Questo esercito di alieni è composto principalmente da questi cinque soldati ranocchi, che sono, come ho già detto, il Sergente Keroro, poi ci sarà il Soldato Semplice Tamama, il Capolare Ghirole, il Sergente Mangiore Gurule, il Soldato Scelto Teroro, che dopo si farà chiamare Dororo. Ovviamente, ovviamente, allora, nella famiglia di nata, che alieni vivono? Principalmente due, dopo anche tre. Allora, i due principali sono Keroro e il Capolare Ghirole, il mio preferito, ovviamente, è anche il mio personaggio. Dopo ci sarà anche, vive spesso a casa loro, anche il Soldato Maggiore Gururu, che però, diciamo, il primo che l'ha visto è stato un altro umano che si chiama Mutsumi, che praticamente è il ragazzo che piace Natsumi, però, diciamo che Ghirolo prova anche un po' di gelosia per Mutsumi, perché lui, a sua volta, è innamorato di Natsumi. Quindi, ci sono tutte, anche le storie d'amore, è molto, molto bello. Quindi, ecco, questi cinque, dopo però ci sarà un altro protone più deciso, che vorrà conquistare la Terra, però, Keroro, insieme agli altri suoi soldati, Tamama e gli altri, e riusciranno a sconfiggere l'esercito di Zururu, o qualcosa del genere, non mi ricordo bene, e quindi non riusciranno neanche il protone di Zururu a conquistare la Terra, perché Keroro cerca sempre di difendere gli abitanti della Terra. Quindi, il bello del manga, che sia un po' come l'anime, quindi se hai visto l'anime, come per me, nel mio caso, leggerlo è un po' noioso, però ci sono delle parti extra, come qua, che ti spiega tutto sui kerogliani, qua, su Keroro, dopo nel prossimo numero, ci sarà tutta un'intervista su Tamama e robe così, cioè, molto bello, ci sono episodi extra, molto belli. Dopo, vabbè, ci sono anche scene un po' così, ma sono molto limitate, perché, essendo un manga per bambini, non è che ne possono mettere troppe. Cioè, quelli adoscenti, sì, ma questi non tanti. Dopo, invece, come umani, personaggi umani, ci sono la famiglia inata, che è composta da questi due, Fuyuki e Natsumi inata, e Akinata, che è la madre. Poi ci sarà Momoka, che ospiterà l'alieno Tamama. Poi ci sarà Motsumi, che farà amicizia con il sergente maggiore Gururu. Dopo, e dopo tanti altri, dopo c'è anche il Maggiordomo della famiglia inata, tanti, veramente tanti. Concludo dicendo che questo manga lo consiglio veramente molto, perché come storia è molto originale, perché non sempre si trova di trovare alieni in un manga, o anche in un anime, perché appunto è molto originale per via degli alieni, della storia che si instaura. Vi farà molto emozionare, perché ci sono alcuni punti veramente dove, anche a me veniva voglia di piangere, il suspense, è davvero molto bella, fatto molto molto bene, direi. Quindi ve lo consiglio, per favore provate a leggere, oppure almeno a vedere l'anime, e fatemi dire. Quindi io ve lo consiglio un po' a tutti, che secondo me, se siete appassionati di manga, non vi può mancare neanche questo, alla vostra collezione. Bene, io ora vi saluto, vi do appuntamento al mio prossimo video, mi raccomando mettete un bel mi piace, iscrivetevi, se non siete ancora iscritti, e mi raccomando commentate, commentate numerosi. Io vi do un bacione, poi auguro un grosso in bocca al lupo, a tutti i maturanti, che lunedì, che manca ancora la terza prova, è l'orale, in bocca al lupo a tutti, anche a me, perché anche io li devo finire. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, bella!